Salve a tutti, io sono Stix, io sono Nart, insieme siamo... ...di Tubo! Finalmente, dopo tanto tempo, direi... Eh sì, cazzo. Torniamo! Sì, finalmente. Con... Half-Life Party! Quattro! Comunque no, è... Meno male, siamo tornati con una saga che secondo me ci rappresenta... Ci rappresenta per il semplice fatto che è la prima che abbiamo iniziato a fare. Ed è quella più lunga. Allora, premessa da fare importante, la faccio io perché sei tu il diretto interessato. Grazie, ok, già capito. Allora, diciamo che io per questa volta mi sono dimenticato... ...il lecca-lecca che gli avevo promesso. L'ha presa ancora bene, insomma. Eh! 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 Eh, adesso, boh, ti lascio e a sto punto... Visto che già non mi hai dato sto cavolo di lecca-lecca, almeno a iniziare a stavolta... Sto proposto le patatine, non le hai volute. Non le voglio! E poi non vale, tu mi hai promesso un lecca-lecca, non farei un po'. Allora... Io non avevo più po' l'idea di cosa era successo. So che dei polli-assassini hanno cercato di uccidermi come se... Eh, ma secondo me... Guarda, girati... Eh, magari devi andare dentro quella merda là. No, ma no, quella lì è una porta, io dicevo quella merda là. Ah, qui! Eh, è mega merda. Eh sì, chiama gli scatti-lecca. Eh sì, ma qua ci vuole un tocco di luce. Aspetta, no, calmi tu. Impariamo di nuovi tasti. Impara con noi i tasti di Half-Life! Seguirà un corso a pagamento del valore di 80€ a lezione per 75 lezioni. Tu hai trovato che parli? Sì, hai trovato un po' di Zoiberg e... Uccidiamo. Vediamo se ti ricordi ancora dove si vuole. Eh, doppio, non è dentro. Chiama il peso? Vediamo se c'è l'unico più. Dai, cazzo, che stai per morire, micchia. No, è appena iniziato. Eh, uno. Eh, guarda, sono diventato una pexia, guarda. Curati. C'è un medikit. Lì. Ahah! Sono l'arciata che si è lì, freddo, mi devo anche lavare. Allora, attenzione, siamo praticamente in... Uo, che è successo? No, che è successo? Sopolano porti. Stavo per dire una macelleria, ma devi fare una macelleria ai porti. Ma puttana, cos'è sta cosa? Mi ammazzo allora, poi lo fai. No, 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 no. Nimmt. Guarda come si fa, vedi, l'agilità. Vedi, l'agilità, l'agilità. No, 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 no. Ancora lui, finca le imboscate. Cioè, proprio uno spreco di proiettili. Sì, almeno questo lo uccido. E poi lo do, però. È mortale, impressionante. si, no la grata no, sentire la canata tante esplode dopo 20 minuti non lo piace a un figlio si è morto, perfetto, vai, dai aspetta, fai leggere un po' sotto, vediamo se ne trovo uno seguo il sangue, trovi sempre qualcosa infatti, canale GRANATA! una vabbè, meglio di niente che accumulate quelle di prima fanno bene una ecco che il nostro guadagno VODY ALLEN! Parlaci! vieto di aiutare un collega scienziato vieto di aiutare? Minchia, parlaci di nuovo, anzi io sono contento aspetterò vieni con me, stronzo va bene madonna perfetto si, ma siamo presi dietro V di Allen, è sicuramente irutile oh in line, no, non prenderci la mano, eh vai parli maale, stavo per cadere brutalmente calma, calma si, sei veri stupido si eh vedi perchè sono d'acciaio, queste cose eh 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 ah no, alleluia eh 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 non sono finite e dovevo andare eh boh, sai com'è c'è uno grandissimo, sono tornato al pezzo di prima la luce andiamo calmi mi hai detto che c'è la luce so che c'è la luce ma se non la usi ah ah dai su ma non si vede un cazzo non serve niente SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NUMBER ONE! FLASHLESS DOME! Dai! Sono ancora scioccato! Sì no! Ok via! Almeno abbiamo raggiunto un coglione morto tra l'altro malissimo Adesso non c'è più Non credevo! Scusami! Oh mio dio! Ma perchè è qua così veloce? Non me lo ricordavo che andava così sca... Dico... No! No! Grande! Sono diventato un campione! Ti ha cagato addosso praticamente Sì! E' un altro dai! Ufff! Ufff! Ho un cazzo! Dai io lo lascio lì! Ma no se ne sta andando! Se ne sta cavando e che... Ufff! Ufff! Sì! Parlaci! Parlaci! Scusami la cosa! Vorrei farlo fare come sparava! Questo! Liberiamo un po' di spazio! Adesso è diverso! E noi... Dove... Mi ha ucciso? Sarà un gemello! Cazzo! Questo si che è Robocop! Questo è proprio... L'uovo delle palle d'acciaio! Che è non solo! Parla di nuovo sto fogliore in merda! Con il mio cervello i vostri muscoli costituiremo un'ottima squadra! Ascolta! Io non voglio il tuo cervello! A me bastano i miei muscoli! Perché ho più cervello di te dentro i miei muscoli! Ma dove? E quello? Ah! Mamma mia! Ma cosa sta succedendo? È impazzito! È impazzito! È impazzito! È uo! Vabbè! Mi sto divertendo tantissimo! Una borda di legno che risuona come se fosse acciaio! Ah sì! Questa base era dell'incredito! Veramente lui doveva venire con noi, però non ha voce! Sì! Aspetterò qui! Ma no! Ti finisco qua! Mettiamo le ali ai piedi! Mamma mia! Mettiamo le ali ai piedi! Ma l'entusiasmo! Sì 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 sì! E chi è questo coglione di? Ma cazzo ti guardi! Oh! Ok! E quindi così? Un uomo gioca cravato a valigio! Beh! E quindi devo andare di qua! Di lì è chiuso! Secondo me! Devi provare a raggiungere! Ciao! Minchia Albert! Ti do una mano! Allora! Devo saltare qui lì! Hai vedi alternative? Sì! Bene sto qua tranquilli! Sì! Allora! Bobbo via! Bobbo via! Play this moment! Questa volta ti l'ho concesso! Hai concesso anche prima! Sì hai ragione! Un altro! Non così al di prima misura! Play this moment! Adesso ho una paura foto dovevo saltare in qua! Sì! Beh mi sa! Dove vedi altre scale io... Ci andrai no? Oh! E non cade! No! Ho visto una scala! Eh sì eh! È in mezzo! Oh mio dio! Ma perché vi devono far fare queste cose? Eh! Oh no! Sì! Sono vivo! Credevi eh! Eh! Un po' sì! Credevi eh! Cosa devo fare? Che cazzo ne ho io? Passo? Sì! Porghio! La merda! Ma sì! Ma l'ho scritto! E c'è scritto esplosivi eh! Urkuka! Comunque non me ne sono sconto ma un cazzo di vitraniatore! Che figata! Ok! Mai dai un fucile a un bambino! Oh sì! Questi sono forti eh! Erano forti! Il kit medico lì! Kit medico... E poi... Ti lascio... Quasi salta! Salta salta! Servito volto! Bravissimo! Bastardo stacoso! Mamma mia! Tu vuoi già iniziare così! Ma che cosa escono? Che è tu il tesoro? Andiamo a velocemente! Ah! Ma è volvo? E adesso l'ho saltata giusta! Portare a te! Ma che ti sporcano da te! Ma che è tutto a 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 te! Incredibile! Ma che è tutto a te! 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 No no no! Guarda! Entra! E si! Bene! Adesso scivolando devo riuscire a evitare di nuovo queste pote cose! E' vero che giustamente si vede Non è che attivano queste torrenti, no? Ma tu sei un po*****e! Ce l'hai esperato! Che stavo in pietro! Che stavo in pietro! Che stavo in pietro! E' lo sparagli prima, queste cose! Ehi potevi spararci come c'era forte! Ma tu ste! Ma tu! Negate sono inutili, io non ero inutile Vedi, certo? Tutte! Vai dritto! Basta! Finalmente salvo! Grazie al cielo siete qui! Chissà perchè l'avevo intuito, perchè quando dicono che credono di essere salvi muoiono all'istante Quindi adesso abbiamo anche dei soldati contro di noi, eh? Benissimo! Morirai tantissimo lì, eh? Morirai tantissimo lì! Non c'è nulla! Non c'è nulla! Ero che stavo sparando, eh! Sai che c***o! Vieni che ti svergino! Ti svegliamo! Madonna! Ciao! Ti salverò il c***o! Non torno da te! Si vede che p***o! Ehi quanto io stavo non andando! Sono... S'è fermato eh! Dove ne ha fatto un passo! Il nuovo stanno facendo? Che è il nuovo ballo dell'estate! E adesso dopo tutto sto schifo Riusciamo a uscire da sto posto Sai cosa vuol dire questa? Accesso alla superficie Spiacciamo il pulsante! Bene ragazzi ho finito anche la mia parte di gioco quindi Oggi abbiamo fatto una buona sessione Spero che voi intanto il video sia piaciuto Se siete arrivati fin qua comunque vuol dire Un minimo di intrattenimento ve l'abbiamo dato Come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto mettete dei bei pollicini in su E condividete su Facebook, Twitter e tutto quello che vi pare e piace Allora al prossimo video ragazzi Notte! No! No! No!